In questo video presentiamo due terminali per Danea e Sifat. Entrambi i terminali sono dotati di programma specifico che si interfaccia con Danea e Sifat. Sono due soluzioni semplici che rendono immediato l'utilizzo di Danea. Vediamo quali sono le differenze tra questi due terminali. Il primo è un terminale molto semplice, collettore laser integrato in testa. Io posso leggere un codice e inserire una quantità da postiera. Andiamo a vedere. Vado a scansionare il codice, gli metto una quantità sia diversa da uno, vado a scansionare un altro codice. Vedrò qua il codice a barra che ho scansionato. Non vedo la descrizione, vedo solo il codice. E gli vado a mettere la quantità. A questo punto per trasmettere il mio file delle letture, quindi ho un unico file di letture, mi sposto nella voce di menu di invia database, vado a caricare, vado a inserire il cavo USB sul terminale e gli dico di inviare il database. Finita, operazione finita. Quindi è un terminale semplice e veloce che fa perfettamente il suo lavoro. Quest'altro terminale invece è un terminale Wi-Fi, quindi aggiunge dei benefit in più rispetto al terminale precedente. Ho il mio menu, posso fare più operazioni insieme, trasmetto tramite Wi-Fi e soprattutto vedo la descrizione di quello che vado a leggere, che a volte può essere importante. Mi metto sul menu codice. La prima cosa che devo fare è dare un nome alla mia operazione. Diciamo che faccio un carico, gli metto carico 1. Vado a leggere il codice e come vedete ho la descrizione. In alcune situazioni la descrizione può essere importante. A questo punto se devo cambiare la quantità posso inserirla dalla tastiera. E così continuo nella lettura dei miei codici. Ogni volta mi dice non solo la descrizione, ma ovviamente la quantità che sto mettendo e la giacenza. A questo punto per trasmettere il file basta che invio file al PC e posso trasmettere il file. Con questo terminale posso fare più operazioni contemporaneamente, quindi creare una serie di file e poi trasmettere. Quando sto dentro Tanea, l'operazione è la medesima per entrambi i terminali. Quindi io mi andrò ad esempio su un carico di magazzino, mi vado a prendere il mio file e immediatamente ho le mie operazioni caricate nel magazzino. Questo lo posso fare per qualsiasi documento di Tanea, quindi che sia un documento di trasporto, un carico, uno scarico di magazzino oppure qualsiasi una fattura, insomma tutti i documenti che posso creare con Tanea. Quindi sostanzialmente i due terminali eseguono lo stesso lavoro, solo che con questo leggo un codice, digito eventualmente una quantità e scarico attraverso il cavo USB. È un terminale economico, semplice e efficiente. Questo permette la creazione di più file di magazzino, consente di trasferire i file tramite Wi-Fi e consente di vedere l'anagrafica dei prodotti caricati e quindi la descrizione del prodotto e l'eventuale giocenza. Se vi interessa una soluzione di magazzino per Tanea con terminale portatile, contattateci ai nostri riferimenti. Grazie a tutti.